a raccontare andiamo a raccontare il mondo di drag me to fest un festival dedicato al cinema indipendente però sotto la chiave horror si svolge questo sabato a milano ce ne parlano gli organizzatori protagonisti di questa meravigliosa chermesse ovvero il god e chiara natalini ciao benvenuti ciao ciao a tutti ciao andrea grazie mille di averci invitato sono veramente contento grazie di cuore sì grazie mille è un piacere per me come vedete anche da quella che è la mia miss sono appassionato di questo mondo il buongiorno si vede dal martirio è il format che appunto racconta il mondo dell'estremo con ironia ma sicuramente con competenza il mondo del cinema horror è un mondo difficilmente raccontato dai media tradizionali motivo per il quale anche con gli amici di bloodbusters ci piace tantissimo andare a ritagliarci dei momenti e degli spazi per raccontare qualcosa per quanto riguarda il vostro mondo se me lo concedete vorrei raccontare attraverso innanzitutto le immagini del trailer di drag me to fest quella che è la vostra bellissima idea che qui vediamo come dicevi prima della diretta chiara non possiamo far ascoltare la musica che però è stata realizzata da una band di amici giusto sì sono è una canzone dell'album dei call the cops this is not america che ci hanno gentilmente concesso per il trailer ecco quindi se volete andare ad ascoltarvi anche un po di musica sapete che twitch ci blocca no youtube anche se andiamo a pubblicare un po di musica però il call the cops andatevele ad ascoltare perché mi ricordo tra l'altro una volta recentemente hanno forse l'estate scorsa hanno suonato da in qualche tipologia di festival in in romagna che cosa è successo sono arrivati è arrivata la polizia quindi coerenza totale con quello che era il il nome della band allora abbiamo avuto una serie di immagini un assaggio grafico di quello che è drag me to festi quello che sarà drag me to fest sabato provate a raccontarmi innanzitutto da dove nasce l'idea di creare un festival del cinema horror indipendente inizio io allora intanto andate sul sito drag me to fest punto it per vedere il video con l'audio così ve lo godete montato da chiara e nel video ci sono le immagini dei film che saranno presenti al fest adesso poi mi aiuterò anch'io col sito per dirvi tutti i film che ci sono e e anche altre cose che ci sono dopo allora l'idea nasce dal fatto che vabbè io personalmente mi occupo di horror con il mio sito che si chiama non aprite questo blog e diciamo che avevo avevo voglia di riunire la mia community con un raduno l'ho fatto prima del covid poi con il covid chiaramente si è fermato tutto e però volevo regalare qualcosa alle persone che venivano a incontrarmi a conoscersi tra di loro e quindi siccome conosco chiara da tanto tempo è chiara è una regista di cinema horror indipendente e tra l'altro un suo cortometraggio è un segmento di un film che si chiama sangue misto che ho recensito quindi mi è venuto naturale parlare con lei e poi lei è comunque già stata diciamo autrice di un di una rassegna di cortometraggi in santeria e quindi insomma ci siamo parlati abbiamo detto settima facciamolo insieme e uniamo un po le nostre esperienze nel giro di poco tempo abbiamo tirato su un festival direi neanche due mesi grazie anche veramente all'entusiasmo che insomma è arrivato verso di noi in un modo veramente del tutto naturale innanzitutto da parte dei registi che ringrazio tutti che ringrazierò poi anche sabato perché l'idea è piaciuta subito e si sono subito buttati proprio senza il minimo dubbio ci hanno fornito i loro i loro corti adesso non vorrei parlare troppo e poi chi ha se vuoi interrompi mentre corti che tra l'altro abbiamo scelto non sono tutti corti non sono corti inediti solo uno è inedito li abbiamo scelti perché ci piacciono quindi è anche una scelta mirata e portiamo veramente qualcosa che a noi interessa che riteniamo abbia valore quindi li abbiamo scelti insieme e li abbiamo contattati abbiamo tirato sul programma abbiamo sentito santeria che ringrazio anche loro perché hanno ci hanno accolto veramente con un grande a parte un grande pragmatismo e subito una grande disponibilità ci ci hanno anche supportato non so non ci hanno dato solo lo spazio ci supportano anche in altre maniere quindi veramente un bel atteggiamento da parte di un locale milanese spero che che tutti gli altri possano seguire l'esempio perché lo dico senza vergogna questo feste fatto con 0 euro cioè è fatto tutto con la sinergia di persone in realtà differenti quindi è veramente un grande miracolo e secondo me è molto simile ai film che andiamo a presentare perché sono film fatti con zero quindi sono dei miracoli anche quelli anche se magari diciamo l'utente abituato al cinema mainstream potrebbe storcere il naso per qualche difetto per qualche prova attoriale non perfetta però sono sono dei veri miracoli e poi magari ci sarà modo anche al feste di parlarne e di far capire anche chi non è già appassionato di questo tipo di cinema a far capire come va visto come va interpretato sì infatti è quello che ci siamo trovati subito anche d'accordo io e te gonz sullo spirito che volevamo dare anche a questo fest appunto perché diciamo che comunque a prescindere dalle possibilità che uno ha avuto c'è chi ha avuto produzioni quasi casalinghe chi appoggiandosi invece a una piccola casa di produzione comunque secondo me le idee sono quelle che stanno alla base sono valide sono i messaggi che passano e secondo me sia anche una molto una panoramica di quelle che sono le tematiche che comunque attraversano questo mondo e che interessano adesso quindi col gonz ci siamo trovati d'accordo subito che fosse dare una finestra agli indipendenti e per far dire qualcosa di importante non solamente mostriciattoli che fanno buco questo un po lo spirito allora ciò che io ritengo già interessante di quello che è il concetto del drag me to fest è che probabilmente è figlio delle vostre esperienze personali cioè io ricordo che anche in in anni di gioventù ci sono stati dei momenti ci sono ancora dei momenti dedicati al cinema di genere alle rassegne di genere ad alcuni eventi io credo che però questo anno e mezzo di stop dal punto di vista della vita normale quindi dalla possibilità realmente di andare anche nei cinema d'essere o andare a seguire determinate piccole manifestazioni eccetera abbiano svegliato nell'utente finale la voglia di andare a conoscere qualcosa di più quindi oggi forse l'utente ha addirittura voglia di condividere degli spazi con gente che vive la la stessa la stessa passione cioè si riesce a essere forse più verticali nelle proprie passioni oggi rispetto a ad un tempo forse proprio perché trovandoci in casa per così tanto tempo siamo andati in qualche modo a schillarci su quelle che erano anche le nostre piccole passioni le nostre quotidianità per quanto riguardava gli ascolti o le visioni di questo tipo partendo da quelle che erano state le vostre esperienze da utenti quali sono le caratteristiche dei drag me to fest che in qualche modo si discostano da un lato e dall'altro invece magari rievocano altre manifestazioni o rassegne alle quali avete partecipato Vado io secondo me non assomiglia molto a quello che già c'è in Italia come festival intanto vabbè chiaramente noi siamo piccoli abbiamo appena iniziato siamo piccoli non mi sembra che questo tipo di film abbia tantissimo spazio nei festival che ci sono di horror e di genere che rispetto tantissimo sono bellissimi festival che sono sono utili e tutto però questi film diciamo sono snobbati un po da da tutti quindi questa è veramente forse adesso magari non vorrei prendermi dei meriti che no magari qualcos'altro c'è stato però è un festival veramente attualmente dedicato solo al cinema ora indipendente abbiamo voluto concentrarci diciamo su una sui più local anche per creare perché abbiamo bisogno con questo festival di vederci di io ironicamente prima che avesse un nome nome la nome è un'idea di chiara che si rifà chiaramente al film drag me to hell di di sam raimi avevamo io lo chiamavo un evento di vita reale perché ero eravamo io ero io ero stufo di sono stufo di internet nel senso che è uno strumento che mi piace che uso che è importante che serve ma bisogna tornare agli eventi di vita reale tu poi che suoni andrea sei ovviamente d'accordo con me non sarai sicuramente farò vorrevole ai concerti in streaming e quindi quindi continua a chiamarsi continua avere un sottotitolo evento di vita reale mi piace chiamarlo così perché risponde a questa esigenza nostra ma anche abbiamo notato perché è stato veramente incredibile la reazione della gente è un'esigenza delle persone un'altra cosa che voglio dire che penso riguardi anche gli utenti insomma che leggono le recensioni che seguono il cinema horror indipendente nonna è il desiderio di conoscere persone che hanno gli stessi hobby secondo me questo questa questa distanza forzata del covid ci ha costretto veramente tanto a stare più con persone che hanno i nostri stessi gusti che con i nostri amici ereditati cioè amici che sono compagni di scuola che non scegli tu colleghi che non scegli tu questi sono amici che scegliamo noi che hanno i nostri stessi gusti un po come quando si andava ai concerti hardcore perché c'è la gente che è lì faceva amicizia ecco internet ci ha dato anche la possibilità di fare questa scelta e secondo me a livello sociale interessante perché io ritengo che forse sia la scelta più giusta scegliersi le amicizie piuttosto che farsene scegliere dal sistema non sono complottaro però uso uso questo termine perché effettivamente il sistema che ti fatti sceglie le conoscenze mentre invece internet ti dà la possibilità di quindi noi incontreremo tantissime persone che non abbiamo mai visto quindi sarà un veramente un tripudio di emozioni veramente molto forti secondo me io volevo aggiungere una cosa perché appunto sempre la cosa del scegliersi gli amici ma io essendo una regista indipendente diciamo che un po proiettato anche quello che era l'esigenza che ho sempre sentito io in giro ovvero quella di fare rete di confrontarsi anche tra persone che fanno le stesse cose tra registi tra attori perché tra questi incontri nascono sempre delle nuove sinergie magari conosci ti piace la fotografia di un film al festa e la possibilità di parlare conoscere il direttore della fotografia il regista magari un attore conosce un altro regista quindi l'avevo già approvato con diy quando avevo realizzato questa rassegna di cortometraggia santeria che era basata proprio sul le possibilità produttive mi ero rifatta molto alla musica perché avevo fatto tre categorie one man band poi avevo fatto almost famous e garage band cioè a differenza delle varie possibilità e anche poter dare l'opportunità di incrociarsi a tutti questi varie categorie anche produttive secondo me è una delle esigenze che hanno i registi e anche chi si muove all'interno del settore quindi penso che ci hanno risposto anche con così tanto entusiasmo perché avevano voglia che ci fosse un luogo fisico reale dove poter creare queste connessioni c'è hype come come ci scrivono in in questo momento sicuramente è vero ma poi come dicevamo prima io credo che proprio le realtà più indipendenti le sottoculture se di questo vogliamo parlare sono quelle che si sono gestite meglio il tempo in in questo anno e mezzo nel senso che sicuramente adesso abbiamo voglia di tornare parlavamo prima fuori onda e ai grandi eventi sono sono di ritorno da lucca comics che è un evento gigantesco da questo punto di vista ma che non ha fatto altro che fare esplodere delle 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 passioni un filino più piccole e poi nel nell'arco di 55 edizione è diventato quello quello che è però effettivamente è il particolare che in questo anno e mezzo ha avuto forse un po' più tempo per farsi conoscere io penso e qui parlo forse più direttamente con gonz ma anche chiara mi pare aver capito che hai le nostre stesse passioni musicali il successo di libri come disconnection o cose di questo tipo nell'ultimo anno secondo me dimostrano che c'è stata la voglia di divulgazione da parte di scene anche più indipendenti arrivando a più persone però appunto come dicevate voi selezionate nel senso non abbiamo portato un libro come quello o il drag me too fast a lucca comics per adesso si parte indipendenti poi un domani per carità io sarei felice di poter di poter vedere che avete un una vostra esposizione in in piazza o cose di questo tipo organizzate magari degli eventi eccetera però credo realmente che il discorso dell'indipendente in questo periodo fosse la chiave giusta per approcciarsi a determinate cose poi dopo da lì per carità cioè i maneschi non fanno male a nessuno se sono un punto d'accesso contemporaneamente però avere un punto d'accesso un filino più studiato su quelle che possono essere determinate sottoculture può aiutare con questo il mio modestissimo punto di vista guarda sono d'accordo con te su questo scusa chiara mi veniva a mente quando da più piccoli ci scambiavamo le cassette doppiate con i vari gruppi no era un po' lo stesso c'era qualcuno magari c'era l'amico l'amica più grande che ti portava la cassetta con i gruppi che non conoscevi era anche un guidare te ti affidavi a questa persona e quindi gonz e comunque con il suo blog anche con non aprite questo blog è qualcuno che ti propone una scelta di cui te sai che ti puoi fidare che a fine che fa un certo ragionamento cioè io ci vedo molta come si dice connessione tra queste due cose quindi mi piace una scelta non congiuriana no no stavo dicendo giusto perché giusto perché per aggiungere un pezzo a quello che hai detto tu secondo me c'è anche la volontà proprio e questo questo si percepisce anche con i social che sembrano sembrano stare proprio in un momento di distasi dove non esplodono più no io credo che le persone ora vogliano tutte il loro microcosmo e noi siamo il microcosmo di questo tipo di persone e siamo contentissime anzi addirittura c'è ci sentiamo quasi un po la responsabilità adesso quindi abbiamo fatto una roba una roba semplice ma che sta diventando fighissima e mo cosa facciamo per il prossimo comunque no comunque siamo molto contenti ringrazio tutti ci tengo poi se mi lasci anche un secondo citare i film così non ce ne dimentichiamo io leggo perché sennò non ce la farei mai i film presenti i cortometraggi saranno al pomeriggio si entra alle quattro e mezza ci sarà pip show e feed me more che sono due corti di davide pesca che è un regista estremo che riesce a fare i film veramente con niente ed è veramente qualcosa di incredibile c'è un episodio speciale di fantasmagoria christmas special che è una serie web serie che sta anche partecipando ad altri festival fatta da ore film a me piace molto e riguarda le leggende urbane il folklore italiano è veramente molto interessante molto seria a differenza di tante altre cose che che giocano su sulla sulla sul credere invece questa è molto è molto professionale poi ci sarà il cortometraggio rigorosamente di sanguati da vivi messo anche nel video di sanguati da vivi di davide scovazzo che fa parte del film è un segmento del film sangue misto dove c'è anche il cortometraggio di chiara il segmento di chiara che mi invito acquistare lo trovate sicuramente su amazon poi ci sarà il cortometraggio in edito di lorenzo pubblicità il e vedere la mia recensione chiaramente su youtube ci sarà il cortometraggio in edito di lorenzo fassina the rise e poi il cortometraggio el is for last di grace bel tempo prodotto da umberto morosi e poi alla fine dopo ci sarà il lungometraggio ellis lo smenheim che è un re per revenge tutto italiano molto particolare che è un film che ha incuriosito veramente tantissime persone perché il re per revenge è un genere che interessa sia per la tematica su diciamo la questione del genere proprio il genere femminile le violenze eccetera e sia quindi sociale sia per per la violenza del film perché poi appunto i fan di questo genere amano il re per revenge e non non ci sono tanti film re per revenge italiani insomma bisogna andare un pochino indietro con nel tempo per trovarli quindi a diciamo incuriosito parecchio il pubblico infine ultimissima cosa finita questa carrellata di film veramente serrata sarà ci sarà una pausa e poi ci sarà il dj set con esa e che è il presidente che non so se ha bisogno di presentazioni è un grandissimo rapper si può dire tranquillamente storia del rap italiano insieme agli otr è un amico è un è un supporto di non aprite questo blog ora anche dei drag me to fest e forse un giorno visto che con lui ne parliamo spesso forse un giorno parteciperà anche come regista indipendente di horror perché l'idea gli balenava in testa e lui è un artista a 360 gradi quindi anche molto bravo a dipingere si fa i video e quindi lo saluto tra l'altro lo ringrazio lo troverete al alla festa con un dj set direi programma incredibile programma incredibile tra l'altro provo a fare questo parallelismo citazione sangue misto chiara però ok siamo lì non è casuale diciamo che naturalmente non è casuale però il film era un film antologico in cui c'erano otto città erano riviste in chiave horror otto etnie diverse infatti il claim era l'integrazione si fa sul set ma sarà un lago di sangue e praticamente sicché aveva proprio una valenza politica oltre che naturalmente perché siamo tutti fan comunque questo lo sa questo è proprio davide scovazzo che ha avuto l'idea geniale che ci ha io ho partecipato con un episodio vampiresco veneranda che ci ha invitato tutti e ci ha acchiappato e quindi siamo dentro sangue misto il film l'altro no purtroppo ti rubo l'ultima cosa poi mi inviterai mai più per nessun evento però non mi voglio dimenticare perché importantissimo per noi di ringraziare il nostro main sponsor che tabù è un brand di streetwear fighissimo il creatore è un appassionato di horror comunque ha finanziato parte del fest anzi gran parte del fest ci stampa pure le magliette quindi potrete acquistare una maglietta che è una limited edition c'è ogni festa avrà una maglia diversa quindi sappiatelo se volete questa maglia dovete venire e comprarla costa pochissimo costerà 10 euro quindi affrettatevi e poi ringrazio santeria chiaramente horror italia 24 che è media partner e basta poi ringrazio anche non aprite questo blog che è il mio blog che è in parte anche sponsor dell'evento ma ovviamente salutiamo e ringraziamo anche gli amici di blog bloodbust che ecco la figuraccia no non si offendono non si offendono gli amici bloodbust che per per anni sono stati il vero e proprio secondo me capanello indipendente nella città di milano punto di ritrovo per tutti gli appassionati di generi non sono solo di genere per quanto riguarda il mondo dell'horror cioè io ricordo appunto da un lato c'erano i negozi di dischi ci si trovava davanti ai negozi di dischi zabrisky riot eccetera e poi si passava qualche anno più tardi da blockbuster perché effettivamente lì ancora si condividevano tantissime passioni quindi allora programma pienissimo serata dj set non sapevo della passione di esa per per questo mondo quindi super a questo punto già mi viene voglia di fare il classico crossover no dove dove mi vado a prendere esa da un lato mi vado a prendere magari non so zampaglione dall'altro e facciamo facciamo una roba incredibile sotto questo punto di vista e per quanto riguarda ecco mi piace all'interno di questo spazio fare anche un filo di divulgazione visto che ci sei gonze visto la tua esperienza con non aprite questo blog provi a dare a coloro che non sanno nulla dei determinati sottogeneri dell'horror almeno la definizione del del della tipologia rape and revenge allora detta così sembra un sembra un un concetto stupido nel re per le menge diciamo che il plot che dà il genere cioè una persona vi in realtà è una persona che viene subisce un abuso sessuale a uno stupro e questa persona poi si 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 vendica perché revenge vuol dire vendetta in realtà poi ci stanno questo questo plot si si duplica continuamente e piano piano però sta uscendo da anche da questo suo da questa sua rigidità per cui ci sono anche altri tipi di rape and revenge in cui cambiano le dinamiche questo 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 tipo di film chiaramente nasconde dentro di sé una malattia che la nostra società cioè è come se fosse un 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 rigurgito che la nostra società per la violenza la violenza sistemica che c'è nei confronti delle donne nella società quindi è quasi un'esigenza è strano però che spesso all'inizio questa cosa veniva raccontata da uomini da registri uomini adesso sta succedendo che delle donne si stanno buttando in questo genere e l'effetto è effettivamente molto diverso e molto più profondo intimo quindi i film tipo anche appunto revenge che è un film della media nei factory è un film molto bello e diretto da una donna questo film di blaze bel tempo è interessante per perché nel suo plot base che è quello tipico inserisce un elemento in più che lo rende diverso ed è comunque non è facile fare non è facile fare un genere serio quando si hanno pochi soldi detta proprio in parole povere perché è più facile fare il film trash perché la butto sul ridere e la risolvo quando devo essere serio e ho poco budget diventa diventa veramente un'azione di grande coraggio infatti io ho grandissima stima professionale per tutti i ragazzi che ragazzi poi insomma alcuni sono attempati come me però grandissima stima e coraggio perché fare un film ci vuole veramente tanto coraggio perché poi lo devi far vedere insomma se è brutto un po insomma non è facile quindi dire grandissimi complimenti a loro e grandissima da parte mia non so se ho spiegato bene il genere comunque in generale si parla di cinema horror estremo quindi tutti i film sono a parte un paio sono particolarmente insomma difficili non sono proprio per chi non è abituato insomma io dei degli amici grandi e rossi che che hanno paura di qualsiasi tipo di horror quindi fate attenzione per me è acqua fresca io sono molto impressionabile nonostante faccia il film ora io sono paurosissima però diciamo che lo vivo molto come catarsi io io credo fermamente nella grande catarsi che all'horror che appunto come diceva romero è uno dei generi più politici che ci sono fatti anche comunque il film di bracy l'ho guardato con molta attenzione essendo con quel il tema rape and revenge che ha sempre stato visto con un occhio maschile qui sia un regista però c'è una sceneggiatrice anche e poi soprattutto da una visione diversa è quello anche che io poi vorrei per il futuro e mi è piaciuto anche comunque anche nelle opere che ho visto che ho visto dei personaggi femminili molto attivi e molto anche catartici naturalmente sia attivi che passivi nelle loro azioni ma mi piacerebbe molto in futuro portare avanti con questo fest coinvolgere molte più registe donne oppure anche di altre identità di genere perché ci vogliono più punti di vista secondo me può essere anche nell'indipendente è un laboratorio interessante per questa cosa secondo me benissimo allora io prima di salutarvi e ricordare già coloro che non lo stiamo dicendo da un po' l'evento si tiene sabato santeria paladini dalle sedici e trenta fino a quando esa avrà voglia di girare l'ultimo disco prima di salutarvi volevo fare un'ultima considerazione visto che prima sbadattamente abbiamo citato il mainstream della musica di oggi no abbiamo citato un esempio come i maneskin volevo chiedervi quanto il cinema horror mainstream aiuta se aiuta il percorso indipendente e quanto invece il percorso indipendente deve allontanarsi volontariamente da determinate questioni dicevamo torno da lucca comics mi becco questi giga poster di halloween il ritorno di scream eccetera eccetera e sapevo però già di trovarmi poi a chiacchierare con voi questa settimana io sono uno che al cinema a vedere halloween ci va tutte le volte mi faccio infinocchiare da questa saga trita e ritrita ma ma ci casco perché forse c'è un'adesione anche panciullesca a quel mondo ecco quel mondo quanto aiuta il mondo indipendente perché detto tra 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 di noi i maneskin nella banalità della cosa aiutano perché io adesso dei ragazzi giovani che mi entrano in studio che vogliono fare musica quindi in qualche modo devo dire che ho visto il silver lining come direbbero gli inglesi sulla cosa per quanto riguarda il vostro mondo invece le grandi maxi produzione le mega le mega saghe o semplicemente anche i titoli da netflix e cose di questo tipo un po' aiutano in genere io posso dirlo dal punto da regista indipendente io penso che bisogna nutrirsi di tante cose poi io amo il cinema in generale quindi secondo me bisogna e le cose mainstream aiutano appunto perché sono mainstream avvicinare più persone poi naturalmente devi avere anche altre opportunità se no ti nutri solo di quello se hai solamente mcdonald ti mani solo mcdonald invece la pluralità va sempre bene quindi noi abbiamo dato l'opportunità agli indipendenti proprio perché c'è meno visibilità però se una persona appassionata e si nutre bene comunque anche se il mainstream propone delle cose valide non solamente cose stupide o scontate educa gli spettatori che poi andranno a cercarsi anche le cose più indipendenti per quanto riguarda netflix e tutte queste piattaforme lo stesso io poi penso che sia anche una grande opportunità per gli indipendenti netflix e queste piattaforme per farsi conoscere per arrivare alle persone io non sono assolutamente per dire al cinema è solamente quello che vedi sul grande schermo il resto non è niente non è vero ci sono tante forme espressive ci sono tante cose che sono fatte per piattaforme o per altre quindi io per me aiuta poi non bisogna nutrirsi solo di quello io mi ricordo che è questo che facevo da piccola sentivo magari sex pistols e poi mi andava a cercare i vretched dopo diciamo certo 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 qui tra l'altro il pupi 91 ci chiede dove si possono vedere i tuoi film chiara allora io ho un cortometraggio che è ora su internet madre che ho girato nel 2013 e poi il mio lavoro è su nella raccolta del film sangue misto è un episodio antologico di sangue misto e questo è per quanto riguarda appunto il genere oro perché io poi mi occupo anche di documentario di creazione un altro genere che in italia non è supportato insieme all'horror il documentario e quindi si trovano sul web per adesso proprio essendo indipendente l'unico mio lavoro adesso disponibile in dvd e all'interno di sangue misto la raccolta questa eccolo lì eccolo lì benissimo sentite a proposito di distribuzione cose di questo tipo saranno presenti delle distro indipendenti all'interno di drag me to fast c'è una volpe non so come tutti vengono queste cose comunque sì no è approfitto per prima che mi dimentichi dico una cosa l'evento per le proiezioni è sold out purtroppo per via del cobit perché sennò ci ammassavamo come un concerto dei propagandi però è così ma potete comunque venire incontrare i registi parlare con noi che è divertentissimo e se dovesse diciamo non venire qualcuno lasciare un posto libero vi prenotate vi facciamo entrare e purtroppo per il cobit è così sennò si stava tutti in piedi eccetera quindi tenevo a dirlo perché magari un arriva bello fresco e dice io voglio vedere quel film no è tutto sold out purtroppo la saletta è piccola la prossima volta se andrà veramente come abbiamo pensato la prossima volta prenderemo luci cinema non lo so quindi forse forse addirittura forse gli conviene ospitare il drag me to fest comunque sì no allora una cosa che volevo dire per rispondere alla tua domanda è che nel mio raduno mi sono accorto che il mio lavoro di recensore comunque di divulgatore ha fatto incontrare etichette importanti etichette di tutti tutti i livelli con persone che comprano questi prodotti che sostengono perché sono veramente lo fanno anche con con un grande fierezza di comprare un film perché sanno che stanno contribuendo magari al film dopo è perché perché appunto si registi con poco fanno dei film quindi basterebbe veramente poco quindi sì ci saranno ci saranno ma non ti dico chi e ci saranno persone che che fanno grafiche dei prodotti che comprate nei dvd edizioni speciali ci saranno le persone che delle società che lì e verranno a vedere i film non posso dire chi perché non è ufficiale però sì perché questo è bello perché quello che può che potrò fare è comunque presentarveli quando sarete lì quindi potrete come già accaduto altro al 1 potrete chiedere cose su edizioni come mai è uscito quello piuttosto che un'altra cosa insomma stressarli perché tanto loro sono lì anche per quello la birra alla gente del cinema coprite una birra per magari convincere a far uscire la vostra saga preferita non so e poi comunque vedere i registi è bello perché è un'occasione quindi non sia mi raccomando non siate timidi e andate diretti perché aspetta c'è loro aspettano solo i fan chiamiamoli noi i veri fan non quelli che mettono il like su facebook questi sono i veri fan quelli che spendono i soldi per perché ci tengo sì 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 per sostenere per sostenere queste realtà realtà indipendenti sottoculture che hanno che hanno bisogno di ogni tipologia di supporto non soltanto per il periodo che abbiamo passato ma perché le sottoculture hanno sempre vissuto di questo cioè non ci sono mai stati i grandi concerti e i grandi budget per le sottoculture non fa parte di quel mondo quindi come era prima sarà anche un domani il bisogno appunto di andare realmente a dare una piccola aiuto una mano poi vi portate a casa queste cose siamo tutti collezionisti quindi diventa veramente poi un un cane che si morde volentieri la coda da solo ragazzi io vi ringrazio innanzitutto per la vostra disponibilità chiara gonz voglio ricordare l'appuntamento ancora una volta sabato a milano dalle 16 30 santeria paladini si parte con drag me to fest fino alla sera non potrete vedere forse i film ma potrete incontrare un sacco di realtà meravigliose un sacco di persone che hanno voglia di condividere la passione per il mondo del cinema horror e poi tutto quello che ci gira intorno perché sappiamo che ci sono tante cose che girano intorno quindi mi raccomando siateci e speriamo che questo sia solo l'inizio e che il prossimo anno o fra nove mesi quando sarà che ci sarà troppa richiesta si amplino ancora e si allarghino le dimensioni del drag me to fest per poter coinvolgere ancora più gente ragazzi io vi ringrazio di cuore grazie a te andrea grazie mille e io vi prometto che se riusciamo a staccare la il cavo della chitarra per tempo per stressarvi vengo a farla così compro anche la maglia grande va bene ragazzi grazie mille alla prossima grazie mille